Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Emiplegia, cause e sintomi. Paralisi di un lato del corpo. Possibili cause di emiplegia. Emiplegia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Demenza vascolare, paralisi cerebrale infantile, cause rare. Aneurisma cerebrale, aterosclerosi, attacco ischemico transitorio, emorragia cerebrale, encefalite giapponese, ictus, ischemia cerebrale. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. MyPersonalTrainer.it Grazie a tutti.